ciao ragazzi stamattina vi porto in un posto un po particolare vi porto in una malga su sempre a marileva ma una malga vuota quindi adesso ve la farò vedere 1103 sopra a livello del mare insomma vedete anche qua avete visto prima dove stavano le mucche qua c'è un'entrata secondaria con un magazzino dove probabilmente mettevano il fieno